30 anni e più di servizio. Medaglia al valore. Encomi. Unico uomo ad aver abbattuto tre aerei nemici negli ultimi 40 anni. Eppure non ti promuovono. Non vai in pensione e nonostante tutti i tuoi sforzi ti rifiuti di morire. Dovresti essere almeno ammiraglio a due stelle ormai. E invece eccoti qui. Capitano di fregata. Ma come mai? Sono i misteri della vita, signore. Scorso ammiraglio? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.